I programmi di Radio DJ sono anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. Beh, se il buongiorno si vede dal mattino, ragazzi... È tutto blu! È tutto blu, è tutto blu! Se non fosse per questa nebbia, però... È vero, è vero, a Roma almeno a quest'ora, alle 7, comincia a esserci un po' di nebbia, che però poi si dirada. Subito, sì. Agli irticolli, pioviginando sale. Eiffel 65, blu, colonna sonora, anche di Iron Man, non ci chiedete quale, ma inizia così. 3? 1, 2, 3, hanno detto 3 cose differenti. Ah no, è il 3. Veronica, buongiorno, vienici subito in aiuto. Buongiorno. Allora, blu, Eiffel 65, il 3, Iron Man 3. È la numero 3, che inizia, come al solito, con i fumetti della Marvel, no? Sapete la sigla. Sono usciti parecchi film della Marvel ultimamente, se non sbaglio. Beh, su Disney che hanno il brand, praticamente c'è un universo. Ma anche di serie, proprio. Di serie è spaventoso, sì. Quando sono tanti, sono come i coperti al ristorante, quando sono tanti la qualità è un po' latita, è diciamo la verità. Ci stanno piccole perle, ma anche la fango. Tanta, cercate, cercate, cercate. Da selezionare, da selezionare. Come fa Veronica, tutte le mattine arriva qua alle 4 del mattino. Sente tutti i messaggi al 342 00 00 700 per trovare il lancio della sigla più adatto. Ieri era bellissimo, c'era il tuo Peronti. 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 Devo dire, mi stanno dando grandi soddisfazioni. Sentiamo, sentiamo, sentiamo. I grandi, i grandi. Grandi, vatti cinti. Vai, eccolo qua. Eh, finalmente. Finalmente. Oh, oh, oh. Cosa c'è da festeggiare? Finalmente cosa? Finalmente il Triomedusa ha mandato in onda la nostra... Sigla. Sigla. Martedì, 21 febbraio, 2023, questo è Radio DJ. Canta la patria. Buongiorno. Se mi chiedi come fa. Fa tutto bene. Come fa. Guarda, chi è bene. E il Triomedusa. E il Triomedusa. Intese. Motocicletta. Riesce a capire. Tipo tutto a posto. C'è il Triomedusa, quindi you don't stop. Canzoni travisate, sembrano. Inchipiot. Tre culatoni. Una quarta rossa. Un po' di un foid. Ora senti come suona. Comincia la mattina a tutti con la balena. Come dice Lino. Porca puttana. Vedi come fa. Va tutto bene. Se mi chiedi come fa. Fa gonfia e vele. Se mi chiedi cosa sono. Il Triomedusa. Non chiedi di cambiare chi. Te sei. Medusa, ascolto, bentornati da parte di... Giorgio. Gabriele Furio. Eccoci qua per questo bel martedì. Tanta, tanta aspettativa, cara Veronica. Brava. Devo dire, veramente ci è piaciuto. Sappiamo che la gente comincia a inviarti doni, omaggi, chiedendoti di mandare in onda i loro lanci di sigla. Bene, sentito che si hanno anticipato addirittura. Festeggiavano già sapendo che... Vi ringrazio, però adesso vi giro Liban. Esatto. Basta questo consumismo. Basta fiori, basta regali. Soldi, pecunia. Pecunia, a proposito di richieste, che è stata offerta al buon Patrizio Mattei. Buongiorno Pat. Buongiorno ancora. Allora, a base Radio Verità, perché ieri, finito il programma, ci hai raccontato un episodio bellissimo. Ti abbiamo detto, come è andata a Berlino, la famosa serata? E hai detto, bene, bene. Bene, bene. Il locale bellissimo. Addirittura ascoltatori che hanno provato ad approfittare della promozione. La grande offerta. Usa 10, niente. Niente, niente. Tra l'altro, tantissimi ascoltatori. Ringrazio Valeria che ci ha, in pratica, suggerito tutti i posti più belli dove andare a mangiare. È un'ascoltatrice di Chiamate Roma che vive a Berlino. Ha provato ad entrare in lista lei, ma non c'è riuscito. No, perché io avevo detto che si entrava con il nome Omic. Che non c'era. No, non c'è. Ma chi è Omic? Ma è il DJ. Sì, ma si chiama Omic. Neanche sai il nome del DJ. Ma la cosa più bella che ti è successa è un locale molto chic. Ci dicevi, a un certo punto, ricreiamo la situazione, tu stavi suonando cosa? Stavo andando questo brano proprio qui. Anni 90. Quindi diciamo, house. House, house. Molto chiccoso, situazione... Sciccoso. Senti quanto mi piace questo termine. È chiccoso. Sarà la terza volta. Sì, esatto. Quindi diciamo, atmosfera un po', come dire... E' ascoltata. Anche un po' piaciocere. Tra l'altro c'era ospite anche una attrice famosissima che ora non ricordo il nome. Ce l'avevo proprio sulla destra e mi ha offerto da bere. È incredibile. Quindi immaginate, un'attrice che ha offerto da bere questa musica. Stai parlando di Berlino Nord, diciamo. Sì. Tutta gente che fa... Berlino Nord. No, no, Nord. C'erano la figlia. Esatto. La figlia. No, c'erano... Del Rantea. Del Cance. Del Conde. Del Cosa. Del aperitivo. E ne dà Ponte Milvia. Esatto. Ok, benissimo. A un certo punto viene un tipo in console e dice... Happy Birthday. E io dico... Devo mettere Happy Birthday? Sì. No, non ce l'abbiamo. No, ce l'abbiamo. Non posso saldando questo. Ma questo tipo è venuto a mani vuote o aveva qualcosa? A un certo punto quando gli ho detto no tira fuori dalla tasca un quantitativo di soldi che non ho mai visto tutti. E' un benzinaio tedesco. Era un benzinaio tedesco. Quanti saranno stati? Saranno stati duemila euro. Duemila euro? Sì, sì, ma perché erano tutti pezzi verdi vuote. Cioè ti voglia dare duemila euro per mettere Happy Birthday? Sì, sì, sì. E io non ce l'avevo. Scusami. Der Commissar, se sei all'ascolto, duemila euro ce li prendiamo. Ecco, ecco, ecco. L'ha messo adesso. Quella brutta, bravo. Scintillini! Porta! Tanti occuren. Tanta la mia tonne. Ma perché non fare una versione house di Happy Birthday? Duemila euro e tu non l'hai messa, tu sei matto. Ma ti mandavo un messaggio vocale al volo, te la facevo io. Ma tu sei matto. Ma ora che ci sto pensando, gliela cantavo. Gliela cantavo. A questo punto. Ma sì, facevi un annuncio. Comunque, non è professionale, non l'avrei mai messa. Perché io sono un professionista e non metto a richiesta le canzoni. Ecco, fermo. 3, 4, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 700. DJ e gente che fa intrattenimento nei locali. Ma anche gestori, eh. Perché poi, certo, chi organizza serate le vede di tutti. Io per duemila euro faccio scegliere dal palco gli U2, ragazzi. Non sono le prega. No, no. No, sbaglio io. Vai, vediamo, vediamo. Tra poco parliamo con un ospite a proposito di richieste musicali ai DJ. Intanto arriva Levante. Radio DJ è anche in podcast. On demand. Dove vuoi. Quando vuoi. Vivo Levante, fresca ospite di DJ Chama Italia. Su Radio DJ recuperate la video intervista se volete attraverso dj.it. E potete farlo tranquillamente è tutto gratuito come direbbe il buon Patrizio Mattei. Eh, guarda, lo vedi in quanti dicono ma tu sei pazzo accetta i soldi accettando la tua professionalità. La professionalità. Ma no. Si trovava il modo per portare a casa quei duemila e passa euro. Dai. Questa della richiesta al DJ è una cosa che io pensavo fosse morta negli anni ottanti, fine anni ottanta. E invece abbiamo un ospite che ci conferma che ancora va. Andrea Prezioso. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Buongiorno. Buongiorno Andrea. Per cui ho un attimo una domanda, ma non dovresti ascoltare Radio Capital invece di venire qua a questo bufone con noi. Tra l'altro Andrea decide con un altro team di persone la musica di Radio Capital. Assolutamente, Luca Sacchi. E vi facciamo i complimenti. È sempre la musica più bella che passa nelle radio italiane, quelle di Radio Capital. Però, ovviamente, la tua è una vita in console, Andrea, no? Assolutamente. Io ho iniziato al veleno nell'ottantasette con Giovannotti. Ottantasette. E lì cominciavano ad arrivare queste richieste strane. Di già. Beh, negli anni ottanta si usava il prossimo. Ma perché c'erano i dischi probabilmente, vero? Ma tuttora lo fanno, eh. Lo fanno anche su uno. Guarda che sto con una scheda. E che cosa chiedono adesso? Ma adesso, vabbè, cominciano a mimare anche delle richieste sudamericane e quindi cominciano a cantare il sudamericano e tu non capisci. Danza Couture ancora. Danza Couture, paciaca, paciaca, metti paciaca, paciaca. Mentre tu, aspetta, che serata fai? Perché la richiesta... Iniziava Patrizio, soul, funk, disco. Non al Fiesta, te la chiedo, capito? Sta danza Couture ancora. E poi richiesta assurda, cioè, tipo, tre, quattro anni fa io stavo lavorando e arriva uno e dice, c'è un cacciavite? Un cacciavite? Un cacciavite, è proprio un cacciavite. Ah, vuoi un cacciavite? E perché chiedi la console? Scusa, a parte poi dove il bagno? E beh, il bagno è insalato. E poi un'altra volta, ve lo giuro, uno mi chiese, un mazzo di carte. Ma beh, va bene. Perché si annoiava. Mi dà un mazzo di carte oppure quando inizi? Ma è già iniziata la sera. Questo non è bello. Questo non è bello. Quando inizi? Questo non è bello. In realtà... Che è successo? Sui social gira tantissimo il video della ragazza un pochino brilla che va, fa una fila di mezz'ora davanti alla console e poi dà l'etichetta e fa un gin tonic. E faceva nella console. No, nel mare è quello. No, ne capitano di tutti i colori. Un'altra famosa fu... Mi chiesero, metti mamma? Scusa, cosa? Mamma? Mamma è... Mamma è sempre... No, mamma... Erick Queen. Mamma! Mamma! Onesto, base tensiva. Di fronte a duemila euro è uno che fa accetta, mette tanti auguri o no? No. Beh, è difficile comunque anche perché dipende appunto dal contesto a che punto sta la serata. Se fai delle feste private può capitare però in serata piena no, assolutamente. E tu hai mai ceduto alle lusinghe di scegliere... Anni fa mi chiesero Barry White ma parliamo appunto fino agli anni Ottanta e mi diedero centomila lire. Vabbè, vabbè, accettai. E' accettato. Quindi dipende dalla richiesta da Barry White ai cinque mattina insomma un lento c'è pure... Lo puoi anche mettere certo. Tanti auguri diciamo in quella versione abbiamo sentito questa... Difficile che vada bene in qualsiasi serata va male comunque. Ma questa la odia pure mia secondo me e tra l'altro questa canzone qua va sempre accompagnata con il messaggio al microfono che però è facciamo tantissimi auguri alla piccola Antonella che fa undici anni che poi sono sempre compleanni strani non è diciotto sedici no sono sempre dati insomma che poi tu dici ma undici anni che ci fa le quattro del mattino in discoteca? L'altra richiesta era quella che chiedevano di spostare macchine quindi mi dici sta targa da spostare Roma a FG54 e lo facevano comunque voglio dire che io non l'ho messa solo perché non ce l'avevo perché sennò duemila euro duemila euro che poi era circa un sesto di quello che prendi per fare la serata poi la faccio ti alzo il calcio esatto Andrea ma la richiesta più bella è stata quella di allora stavamo suonando arriva uno senti mi metti il disco del nero che suda il nero che suda il nero che suda io ho pensato scusa io ho pensato il nero di Whatsapp il nero di Whatsapp invece sapete chi era? era James Brown James Brown era il nero che suda la copertina la copertina c'era sempre questa immagine di lui guarda ringrazio i colleghi della program di Radio DJ che lo mettiamo davvero James Brown grazie grazie Andrea grazie ciao ragazzi ciao Radio DJ la trovi anche in podcast avvio go 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 James Brown le viene in America colonna sonora di Rocky 4 Rocky 4 qua sono sicuro sì sicuro sicuro è lo spettacolo prima dell'incontro contro Ivan Drago tra non Rocky ma Apollo Creed che in quell'occasione spoiler muore muore e se non l'avete oh no no dai no non vale ne hanno fatti altri 8 se già non hanno più i diritti sul film non vale non è spoiler però sicuro Rocky qua confermo confermo e parlavamo di richieste Andrea ci ha detto che stanno scrivendo anche un libro dedicato alle strane richieste ai vari DJ oppure a chi fa musica dal vivo suggeriamo il titolo che mi metti che mi metti che mi metti mi è venuto in mente che una volta io suonavo la chitarra classica e un gestore di un ristorante molto elegante mi disse vieni a suonare no intrattenimento becero che ne so con il sottofondo quindi tutte quelle che conosci a memoria non le potevi fare no tutte le costerie niente no cose di chiesa no quindi che so tipo la cavatina di Stelli Maia tutta roba di musica capito classica io con lo spartito così a un certo punto arriva un avventore e mi domanda che me fai Ponte Mammolo Ponte Mammolo ma non ti preoccupa te la spiego io fa così ta 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 e io ta 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 ok gli dico guardi veramente tira fuori 50.000 lire e io immediatamente Ponte Mammolo ah Ponte Mammolo Ponte Mammolo Ponte Mammolo perché tanto nelle richieste appunto non sono mai precisi sbagliano il titolo sbagliano l'autore poi immaginate il ristorante fighetto lui voleva che io cantassi però dopo l'ho imparata e invece Ponte Mammolo 342 00 00 700 torniamo tra poco con delle storie veramente veramente divertenti you are listening to Cheo Medusa on Radio DJ 737 Radio DJ il più classico dei dischi Mannaggia per me il numero uno per voi no per me il numero parte e tu dici e tu dici e tu dici Mannaggia Mannaggia Puff Daddy tra l'altro è una delle poche canzoni su cui sono sicuro che al duello di Don't Forget farei 100 questa la so assolutamente a memoria perché sei Puff Daddy questa qui vuoi cantare questa stai sul pezzo io dico semplicemente Mannaggia non si può avere l'originale non la sapevo Mannaggia e richieste beh sempre di musica si parla ragazzi siamo partiti dalla richiesta rifiutata integerrima c'è qualcuno che ha detto con questo accendo bravo Madrizio l'ha fatto bene in una città perché i soldi sono lo sterco del diavolo bravo bravo perché lui non si fa corrompere ho già detto ho già detto che non l'ho messa solo perché non ce l'avevo perché se no ma che me frega io già so io già so perché conosco chi ci ascolta che da qui in avanti a partire da oggi ogni serata di Patrizio ci sarà quello che arriverà e farà tanti auguri posso dire una cosa allora i soldi è vero non è bello accettare ma se si presentano con quattro etti di mortadella dico per dire e cioè ti dico Patrizio alle tre di notte ancora meglio uno con una gallina bravo presentatemi con la gallina gallina gli rapite il cuore tre quattro due zero 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 settecento un tu beyond i messaggi ricordiamo che Patrizio fa le serate con il suo sodale che si chiama Omic sono arrivati ovviamente tantissimi messaggi del tipo io per duemila euro avrei puntini puntini il vincitore abbiamo un vincitore un vincitore uno su tutti Mattei io per duemila euro gli accendevo Omic sulla torta come candelina su duemila euro lui gli levavi di mano e poi dopo una soluzione si è trovata certo peccato furto quelle furte gli levavano il peccaggio peccato che questo era tipo alto due metri e venti era un armadio non hai finito il racconto amareggiato dal tuo diniego che cosa ha fatto il signore questo signore davanti a me mi ha spaccato la lampada che avevo sulla console proprio davanti ma proprio tipo Bud Spencer col pugno dall'alto al basso il piantapaletto l'ha presa bene esatto poi abbiamo gente che riceve richieste in giro per il mondo giusto Veronica eh sì sì abbiamo quello abbiamo quello abbiamo più che altro chi si è venduto per molto meno meno di duemila euro meno di duemila euro no dai una volta facevo un light dj e per un toast l'ho fatto fare a un mio amico eh anonimo da Sandona di Piave sì evidentemente ha ceduto il suo lavoro all'amico per un toast mi fai fare il dj un toast prendeva meno di un toast ha raddoppiato la tariffa si è venduto la tariffa era acqua esatto quindi lui ha fatto è arrivato qualcuno ha portato pane ora pane e acqua ma chi te l'ha fatto ammazza poi per gestire tante richieste e gestire tante richieste come fai certo certo noi abbiamo una serata che si chiama disco balera in provincia di venezia eravamo arrivati al pensiero di metterci perfino il post in base alle richieste che vi facciavamo prima eh sì ma è una bella idea il post se non hai contanti non ho gli spicci c'è il post è pieno di applicazioni pensaci questa è una bella idea questa è un'ottima idea e poi negli anni 90 Marco Mix sì all'ennesima richiesta di mettere il gallinero scese dalla console spaccò il disco in mezzo alla pista nessuno gli chiese più niente spaccarne uno per educarne il gallinero merita ma tu sei matto ma tu sei mazzo e poi ci segnalano che effettivamente le richieste che vengono fatte più spesso sono le feste dei bambini però immaginiamo che lì tu sia pagato per fare animazione quindi non puoi rifiutarti no ma non tanti auguri che cos'è che richiedono esattamente perché noi abbiamo detto e Veronica fa certo che la conosco chi è che lei il tanti auguri di Carolina Benvenga tanti auguri a te tanti auguri tanti auguri a te no non so non è così tanti auguri di Carolina allora se volete mi prendo proprio 20 secondi sapete ormai sono in questo tunnel di nuovo benvenga questo tunnel benvenga questo tunnel allora Carolina rappresenta diciamo il mondo Roma Nord quindi canzoni molto patinate poi c'è Roma Sud che è Lucilla Lucilla però non ha fatto tanti auguri Lucilla Lucilla da per far condicio no allora di Lucilla metti la zia di Forlì metti la zia di Forlì ma adesso e sentire ma che vita stai facendo Penelope Martina questi sono i suoi amichetti nella fattoria la fattoria vai siete pronti 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 vai pronti io ho una zia una zia che sta a Forlì ma questa è bella ma tanto cantano solo canzoni vecchie non sono loro ma sono come è il derby chi sta con Carolina e chi sta con Lucilla sono due mondi completamente diversi e quella di Roma Nord ricordami è Carolina è più patinata e non ha cantato un pezzo dedicato al paddle grave carissimo è arrivata a controllare per bambini se fai un pezzo sul paddle ospite e chiamate Roma e di tutto questo ragazzi non rimarrà che che Patrizio non rimarrà che che c'è bravo anche intrattenitore come vedete 743 questo è Radio DJ i programmi di Radio DJ sono anche in podcast on demand dove vuoi quando vuoi grandelazza cenere anche se avendo parlato di bambini era più giusto mettere Mr. Reigns con il suo coro di piccoli di bimbi era adatto 342 00 00 700 buongiorno Previ prima di darti la parola abbiamo l'ultimo messaggio dedicato alle dediche queste dediche sono totalmente inaccettabili io trio non posso più farcela con le richieste della musica latina non ce la posso più fare ogni sera mettimi in latino mettimi in latino mettimi in latino mettimi in latino mettimi in greco è anche rotto eh sì hai ragione ma siamo con te lì lì non dovete non cedete lì proprio che sei la mamma mia la giugna è bello la media volta perché si ne hanno un buro danza in crisi ora no è la super vita per la super vita baila 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 Previ baila no non voglio vai vai baila con Gabriele baila no muovi muovi le chiave muovi vai 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 e ritorna giovane la danza a cudurono basta basta questo è un vestito da iron ma nella danza a cudurono basta stanno stanno stai cedendo su più frutti Previ tu dici sempre no poi però ti agiti lo so mi presto è l'intrazenitore sono più il bacino tu di Gabriele effettivamente sì ho sentito ancora un certo presenza ti sei anche appoggiato l'abbiamo visto tu hai capito ragazzi capito lo strofinio strofina strofinio ho sentito proprio Montanelli allora Previ parliamo di tutt'altro parliamo di danza però però parliamo di danza in qualche modo in realtà abbiamo la sigla del pezzo la sigla dell'intervento la domanda è ma tu a Brooklyn alla mangi la pizza di sicuro non la mangi più da Lennis storico locale di pizza Brooklyn che chiude e dopo 70 anni di storia praticamente il gestore se ne va in pensione è Frank Giordano che c'è un nome meraviglioso questo locale è molto famoso tra i new yorkesi ma anche nella storia del cinema perché compare nelle prime sequenze della febbre del sabato sera quando Tony Manero gira per le strade di Brooklyn e mangia una mangiata di pizza quella camminata storica avete presente? la commessa è la sorella di John Travolta vedi subito è arrivata la stella che dice che lei a darle me la mangia al sottocasa ciascuno di noi ha la sua la sua pizzeria il suo luogo del cuore però parliamo di luoghi del cuore non solo di adesso anche quelli spariti mi metti una base lacrima Patrizio è tremenda comunque questa notizia Lennis ma io per esempio ancora sono non devo passare ancora il lutto della chiusura di Poppi a Roma Poppi è stato il primo McDonald da Via Galvia a Burgheria come Burghia a Milano bravo ma ci andavano i paninari ci andavano i paninari no a Roma si chiamavano Tozzi bravo i Tozzi erano i Tozzi non perché erano le Tozze erano Tozzi erano Tozzi perché erano sembravano dei maritozzi a Casale qual era il vostro luogo del cuore ma non ce n'è mi ricordo che alla fine degli anni 80 qualche casalese della mia età si potrà ricordare si andava tutti in maniera inspiegabile in un posto dove si mangiava e si beveva malissimo ma male male però a fare l'after party si andava lì beh sì perché era il locale che generalmente chiudeva tardi per esempio tornando a Cinecittà Pio Claudio dove sono andate e cresciuto in molti ricorderanno forse esiste ancora ma mi sa di no la birreria Capoverde la birreria Capoverde era il luogo mitico dove tutti abbiamo fatti i camerieri almeno una volta nella vita noi andavamo dopo la radio la birreria Capoverde me lo ricordo benissimo il primo anno di radio quello che facevamo in onda quella roba lì e mi ricordo andavamo a bere là no ha chiuso il bar Stoca no no eh sì ha chiuso qua sotto il bar fantastico il bar Stoca ce n'è un uomo però il bar Stoca per noi era perfetto è troppo raffinato non ci andiamo più sono stato al bar sapete chi vi saluta Stoca Stoca eccolo vedi 342 00 00 700 Veronica il tuo luogo del cuore di Roma Nord e se esiste ancora o che magari non c'è più sì esiste si chiama Damassimo cioè in realtà non si chiama Damassimo però per noi era Damassimo ed è Ponte Milvio ma che cosa ha Ponte Milvio guardiamo l'ha detto sottovoce perché tutti i pomeriggi dopo scuola andavamo a fare aperitivo lì a bere Coca Cola insomma da ragazzina poi crescendo abbiamo aggiunto insomma quel po' di alcol Patrizio dalle tue parti c'è un bar storico un luogo del cuore ma non mi viene in mente mi ricordo benissimo appunto il bar Stoca perché ci andavo sempre a fare colazione oh va benissimo anche il muretto che viene abbattito no ma certo è chiaro che il cinema aiuta molto ad esempio io ho due ma anche voi di luoghi nel cuore uno 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 è questo è questo qua è questo è l'argarenula è l'argarenula l'argarenula l'altro nel frattempo è il Gran Caffè Roma sempre da febbre da cavallo è il bar tuttora in attività lì a piazza del Campidoglio occhio ve lo dico apre alle 10 ho controllato se non è andato adesso che è chiuso ammazza sa prendo la comoda però non c'ha più l'insegna del sau caffè ma perché perché l'argarenula modestamente ho della carne che sembra viva per quanto riesca certo vuole ripetere il suo indirizzo che mando mio figlio Conte di Simone l'argarenula 2 grazie buongiorno buongiorno sono bevuta anche la parte più bella 342 00 00 700 questo è il nostro numero questo è il modo per mettervi in contatto con noi Radio DJ è anche in podcast On Demand dove vuoi quando vuoi 7.54 Radio DJ Lady Gaga Bloody Mary non credo facessero il Bloody Mary ma per fortuna la birreria Capoverde in tanti mi segnalano che è ancora aperto appena torno a trovare i miei genitori un salto ce lo faccio ma sai che dovremmo fare è un fine stagione un fine stagione torniamo come alle due di notte la cosa bella era quella andarci proprio a notte inoltrata di refatatire e Domenico ci dice voi parlate della chiusura dei pub io sono rimasto traumatizzato dalla chiusura di Habitat sulla Colombo che noi abbiamo qui davanti ed era il punto di riferimento perché hanno tolto l'insegna hanno tolto l'insegna tu consideri le prime due volte noi andavamo lunghi noi lavoriamo dietro Habitat andavamo lunghi la chiusura poi del posto mitico ti sbarella tutto il tuo GPS mentale perché dopo non recuperi più che c'è il paderino siamo andati lunghi pure adesso no perché d'oltre la scrittà Abitat è per quello quindi che si fa si continua a parlare no continuiamo a parlare a questo punto basta torniamo subito basta con la sabicità vergognati e poi non fa le richieste vergognati 806 tribalistas yesenna morati ci ciccherendo ricordate quant'era avevo andato in fissa per questa frase che non riusciamo bene a comprendere per fortuna tanti ci avevano detto la traduzione che ricorderete era ti sto chiedendo noi diciamo ciccherendo ma è un'altra roba lui dice ciccherendo ciccherendo seconda ora di chiamate Roma tanti messaggi dedicati alla chiusura di questo locale storico di Brooklyn tra l'altro vabbè quando vai a New York ragazzi anche se è la prima volta che ci vai tu dici ma io qui ci sono stato è perché l'hai visto visto in un film una serie in qualsiasi cosa quindi diciamo la pizzeria Lennis attenzione non partite da Roma con la voglia o da tutta Italia per andare a mangiare pizza Lennis perché sta per chiudere però potete andare che sono da Joe's Pizza che è quella di Spider-Man e ci sono più più insomma più negozi dove c'è lui il proprietario proprio Joe con Spider-Man quindi ha fatto la foto con Spider-Man sotto ci può essere chiunque però per me era lui tra l'altro scusami ma Spider-Man non è a Manhattan è di quartiere lui è di però lui sui grattacieli di Manhattan c'è tutta New York su Ice Building di solito che è quello fatto quello più bello di New York secondo me che c'è Spider-Man Peter Parker nasce a Forest Hills che era appunto lo Spider-Man di quartiere e la sua casa è a New York dove c'è la pizzeria Joe's esiste certo Peter Parker non lo devi dire tutto ciò ma quello dopo un po' si viene a sapere che è lui ma vi spiego tutto ciò che è vestito di rosso vedi Babbo Natale esiste esiste bravo quindi Spider-Man esiste Iron Man esiste tutti 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 guarda domani ci tocca chiamare come si chiama esiste la Benvenga la Benvenga ci confermiamo West Village quartiere West Village esatto così tranquillizziamo i bambini all'ascolto 342 00 00 700 tanti posti chiudono tanti punti di riferimento per varie persone sentite buongiorno trio anche io avevo un luogo del cuore nella mia città c'era un posto dove si facevano le scene di classe beh adesso è chiuso e purtroppo chissà dove sono finiti tutti quei topi che stavano in cucina chissà saranno stati adottati speriamo 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 abbia aperto qualcos'altro vicino nessuno pensa ai topi nessuno comunque qualcuno li ha digeriti prima o poi questo accade ancora grazie a Roma si andava anche a cenare insomma una parola grossa a mangiare a rifocillarsi di notte dalla base insomma vicino ai fori imperiali via Cavour c'è ancora c'è ancora c'è ancora la base è sempre aperta però ha cambiato un po' pelle adesso è un po' turistico prima era proprio rock e roll sì sì prima l'esordio era perché a Roma tutti vanno alla parolaccia convinti che sia particolare lo è per carità però la parolaccia era proprio congeniale in tutti i posti mi ricordo che tu arrivavi lì generalmente ci lavorava il fratello della mia compagna di classe arrivavi e tutti ti arrivavano e mi diceva a stronzi tirandoti il menù scegliete una cosa buonasera buonasera ma chi gliel'ha detto che siamo stati sono stati decenti in una pizzeria a testaccio buonissima ma dopo dopo un quarto d'ora che avevo finito di mangiare con la mia amica eravamo un po' in chiacchiera ah sono 21 che sta a chiacchierare ti devi arsare ecco ecco stavo giusto prendendo la mancia la rimetto apposta era questa ah no non lo so il nome non lo dico io dopo altro messaggio vai vai il mio luogo del cuore lo sarei senza osti valdoppiadele valdoppiadele prima dell'attuale ecco devi prendere qualsiasi cosa ed era offerta libera mangiavi in mezzo le vigne o soccol e salame fantastico un bacio trio Paola da Conegliano ne abbiamo già parlato dell'osteria senza osti ci sono stato ci sono stato stupendo però è un po' diverso adesso non è proprio come prima prima veramente era offerta libera perché non c'è più non c'è più questo è un sole no perché non c'è l'oste non c'è non c'è però stupendo è da consigliare consigliare Lele da Rosate provincia di Milano buongiorno Lele bella trio preso il benissimo Lele di martedì mattina alle 8 e 11 allora tu sei in un mare di lacrime perché? mi è chiusa la latteria ti parlo di ormai una ventina d'anni fa però era la grandissima miau io ne ho 40 quindi ci sono cresciuto base tristezza davvero non abbiamo capito scusa la latteria o la grandissima miau come si chiamava? allora lei aveva una latteria questa signora che non mi suona e si chiamava miau perché tutte le volte che entravamo il suo saluto alzava la testa e si sentiva miau ed era il saluto congeniale conosciuta in tutto il paese paesino di Gaggiano ed era la miau e quindi la miau sembra la scena di un film di Fellini bravo ma fa miau ma nel senso faceva miau a chiunque entrasse quindi se c'era tanta gente era un continuo di miau miau allora c'era un bel via vai a dire il vero perché c'erano diverse diverse palazzine lì sopra e quindi ci rifornivamo lì e sì che io sappia era la miau per tutto il quartiere per tutto il quartiere poi pane e salame noi andavamo a prendere il tè c'era il tormentone di paga la mamma noi arrivavamo facevamo la spesina prima di andare a giocare in cortile ed era paga la mamma e lei miau da per tutto e Lele di che anno sei? io sopra un 1981 81 quindi corrono dieci anni mio figlio è rimasto sconvolto l'altro giorno doveva comprare dei fogli di protocollo e ho detto ma non li vendono i bidelli? e lui fa perché? da voi vendono i bidelli? certo il foglio di protocollo te lo vendeva il bidelli a 50 lire se non sbaglio che era una cosa che non poteva fare però arrotondava nel senso che lo facevano ma per arrotondare le pizzette poteva venderle il fumo lo poteva vendere neanche ma neanche la sigaretta adesso come crescono questi ragazzi che devono andare nei parchi a cercare una cosa in comoda andavi lì foglio di protocollo una pizzetta e un tocco di punto 5.000 lire grazie ciao Lele grazie grandissimi scusa Lele scusa dimelo mia ciao amici i programmi di Radio DJ sono anche in podcast on demand dove vuoi quando vuoi Giorgia parole dette male alle 816 su Radio DJ domani apriamo con diciamo il supplemento lo zainetto di Chiamate Roma l'argomento di oggi è sfociato in camerieri malmostosi e camerieri malmostosi ovviamente sono stati male al locale uno ve lo leggiamo subito 342 00 00 700 trattoria a Roma a fine cena arriva il cameriere sono 21 euro a testa loro sono 4 quindi lui fa allora 21 per 4 86 84 famo 90 perché siete voi perché siete voi vedendoli un po' contrariate avete bagnato avete bevuto e allora andate a venire fuori dai coglioni avete pagato via la cordialità la cordialità ma se vuoi intervengo immediatamente immediatamente dai noi andavamo da Lucchetto il Lercio ti chiedeva il nome e poi ti avvisava quando erano pronti i panini ok ma non ti chiamava per nome ma diceva cosa è il tipo a chi è tu con la camicia color pisciarella è pronta la porchetta brava si vodice prima di andare avanti qualche messaggio vai Veronica quello che vuoi decidi tu il Thunder Road a Codevilla un famoso locale vicino Pavia dove facevano musica dal vivo ci hanno fatto anche dentro un Guinness dei primati della canzone più lunga quando ho chiuso disastro è stato terribile ci ho passato veramente le notti più belle della mia vita è vero il Thunder Road era un culto insomma anche le discoteche chi andava a vedere i concerti viaggiare e ancora un messaggio audio poi passiamo a te Previ quante lacrime quando quando ho chiuso il Cocco Ricò sono ricoriano sono proprio sotto il Cocco Ricò è stata una sofferenza una grande sofferenza ancora ancora adesso che succede Patrizio no 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 dico è aperto adesso quindi riprova magari non lo sa smetti di piatti riusciamo a collegarci con il Cocco Ricò sai già cosa devi fare sai già vediamo se alle 8 e 18 è aperto è aperto il Cocco Ricò questo motivo ha fatto impazzire migliaia di giovani in Italia si svegliano la mattina e cominciano a fare la dimestichezza con cui passate dal latino americano alla trans le amate Roma sono le montagne russe della radiofonia italiana allora luogo del cuore il trabucco da Mimì a Peschici 5 ore di viaggio dal mio comune di residenza 12 ore di viaggio dal mio comune di domicilio ma una volta all'anno ci devo andare immagino sia un ristorante un ristorante certo tra il busco e rovato c'era il mitico Paolo per tutti il putrido che con le sue battute sui cannoli alla crema ha fatto crescere generazioni di fame chimica notturna la crema immagina che battute si presta bar dei preti a Montecchio Emilia chiamato così perché dato in gestione della parrocchia ma di ecclesiastico in quelle serate al bar c'era davvero poco e a proposito della religione il mitico pub di Tony a San Pietro in Guarano la vigilia di Natale c'era più gente lì che in chiesa tanto che il nostro amico Piero Lone preso così si improvvisava sacerdote mi dispensava c'era del pubblico trunzantantantantant tutta stazione diciamo laica laica da ragazzi andavamo al Cherry Blue pub su due piani al piano superiore ai tempi si vedeva poco perché il fumo delle sigarette del piano arrivava che si fumava nei locali mamma mia mamma mia a Kyoto ho visto un chiosco di gelati che mi ha un po' inquietato si chiamava Lickensack ci andavo perché non si sa mai Lickensack Lickensack lui ci tornava ci tornava sempre alla fin fine guarda qua noi a fine anni 90 andavamo al mitico bar Maldive dall'ingiustificato nome esota un bar che aveva solo aranciata gazzosa e birra tu andavi a chiedere una birra e Stefanino che era il titolare del Maldive ti diceva ti ha la birra questa è la bolletta del gas vammela a pagare almeno ti ridava i soldi no una volta 88 mila lire adesso te li do adesso te li do mai anticipare mai errore da principiale piegatura sono stato in India nel Rajasthan per due anni ho vissuto lì per lavoro dice il mio luogo culto era Devendra Food si chiamava Devendra Food and Ride era un chiosco che organizzava pranzo e gite sul cammello una copiata è impossibile ma come vai a pranzare su un cammello non ci prendi mai c'è la bocca la manchi sempre ma poi mi immagino diciamo poi dopo dicevamo hanno chiuso la pizzeria storica quella nella quale John Travolta entra e poi esce facendo la camminata proprio classica John Travolta e ballando chiaramente Stayin' Alive 8 e 21 sul volume giù il finestreo Radio DJ è anche in podcast On Demand dove vuoi quando vuoi Ciao Johnny scusate le orecchie uscivo dal palazzo iniziassi in live la camminata era uguale solo che io sono in tutta da lavoro e vabbè buona giornata sei stupendo va benissimo si è Tony Manero dentro mi fa fuori ricordiamo il nostro incontro con John Travolta una delle persone più disponibili al mondo la scena è questa festival del cinema noi tre vestiti da Bee Gees per le iene arriva all'ufficio stampa del festival e ci guarda e dice ma vi rendete conto ma dove andate ma con le parrucche questo è arrivato qua guidando il suo oggetto vi pare che si mette a fare questa cialtronata è un premio Oscar ci ha fatto un mazzo tanto mi ricordo tant'è che noi ci siamo tolti le parrucche abbiamo fatto un viaggio inutile lui ci vede da lontanissima a cento metri scavalca le transenne e dice è la cosa più figa che abbiamo mai visto balla con noi si mette la giacca si appoggia la parrucche e si porta via la nostra palla di specchi tant'è che c'era a progetti luoghi del cuore una videoteca molto famosa dalle parti di casa di Giorgio dove vendevano DVD affittabili DVD che sulla parete aveva la foto di John Travolta con noi che balliamo e non ci conosceva era una foto talmente bella che lui aveva pensato che era una foto che raccontasse il cinema dopodiché per tre giorni lui ci ha stoltorizzato non riuscivamo come ci vedeva a cento metri ai miei amici miei amici balliamo e noi che cercavamo di fare qualcosa per allontanare esatto perché non riuscivamo più a lavorare ci ha fatto lavorare Enrico buongiorno buongiorno a voi ho preso un colpo ho preso un colpo perché ho sentito come il coccorico è chiuso io come faccio è aperto è aperto ma come fai cosa tu poi no come fai come fai non posso farne senso come si chiama la piadineria famosissima dalle vostre parti non so se è a Riccione o a Rimini forse è a Rimini quella famosissima forse non so è quella famosissima forse ti riferisci alla Lella si è anche la casina del bosco brava 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 la stella la casina del bosco anche la Lella sono le due più famose giusto poi c'è anche qui vicino doveva anche spesso Rudy o anche anche Andrei Michele da Romano è una piadineria è veramente ma se è romano da Romano sa delle piadine Rudy da Romano ci può andare però tu arrivi a Ricciolettino e cazzo è anche là anche lì ti gettano ti tira il menu e voi mangiate io questa scena del ragazzo che arriva con il menu e fa astro 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 buonasera anche a lei non la scorderò mai Enrico siamo sull'1 a 0 per te vuoi partire dalla previsione puntuale o da quella nazionale come volete facciamo quella puntuale così mi toglie Genova 8 e 27 ora Genova in questo momento è nuvoloso solo è nuvoloso secondo me è nuvoloso però poi potrà anche piovere nelle prossime nuvolte chi lo sa alle 8 e 28 tu dici nuvoloso non si vede il cielo ok io direi nuvoloso sì sì non si vede il cielo 3 4 2 0 0 0 0 0 700 resto d'Italia ecco resto d'Italia c'è ancora siamo ancora sostanzialmente sotto il dominio anticiclonico ancora però affluisce quest'aria umida che porta un po' di nuvolosità appunto per il nord sulla pianura padana ci saranno un po' di foschie nubi basse sulla Liguria appunto dove sul Levante potrà anche debolmente piovere e così come al centro potrà debolmente piovere sull'alta Toscana inoltre avremo anche nubi sul resto della Toscana sull'Umbria e sull'Aste senza piogge ecco senza piogge e nubi anche per quanto riguarda il sud sulla Campania se le temperature più o meno sono stazionari e poi domani in serata incredibile potrebbe arrivare una perturbazione piogge effetto incida eh sì eh buono potremmo avere anche deboli piozze sul nord ovest più decise poi nei giorni successivi quindi finalmente dovrebbe sbloccarsi un po' la situazione perfetto grazie Enrico a domani un abbraccio ciao 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 837 this is Radio DJ chiamate Roma 3131 mettetevi comodi perché nella prossima mezz'ora è venuto a trovarci o meglio è venuto a ritrovarci un amico adesso uso la parola collega impropriamente perché non è un collega è molto di più radio un po' l'ha fatta radio si radio si va stand up comedian attore presentatore doppiatore ho verificato abbiamo lo stesso codice a teco quindi siamo colleghi buongiorno buongiorno a voi bentornata grazie ben trovati da che cosa vogliamo partire perché ci sono tante partiamo dal luogo del cuore abbiamo sì è vero l'abbiamo parlato fino adesso ma stiamo a Roma dove vuoi beh io sono notoriamente un goloso quindi a Roma e il mio dolce preferito è la Sacher Torte e a Roma per me l'indirizzo della Sacher Torte è la Dolce Roma che è questa pasticceria che sta a Portico d'Ottavia Dolce Roma qui ci sono dei grandi patiti di Sacher Torte vedete cosa potete fare non c'è Sacher Torte a Roma se non quella sono anni moretti ce ne stanno tante altre no 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 non le rivisitazioni no mai rivisitare la Sacher Torte non ti piace quella vegana no allora con tutto l'amore nei confronti del popolo vegano vorrei dire che nei dolci la parte fondamentale non è lo zucchero ma è il burro è il burro è il burro senza burro non è un dolce allora Saverio a me piace tantissimo perché è la persona che rimette a posto le cose è un precisetto e le dice come vorresti tu cioè tu lo vedi sul palco e dici ma quanto è vera questa cosa bravo Saverio per esempio recentemente abbiamo fatto un'iniziativa molto bella grazie per averci invitati a fini benefici e tu raccontavi di quanto è stato bello per te che sei assolutamente terrorizzato e germofobico come sottoscritto il momento della pandemia perché tutti abbiamo pensato ahhh è noi ahhh ma non le lavate le mani esatto perché a quanto pare è stato un gigantesco ve l'avevo detto esattamente esattamente più che altro abbiamo scoperto che eravamo in pochi a lavarli cioè addirittura capi di governo che hanno dovuto fare messaggi alla nazione lavatevi le mani ma che davvero sembrava mia nonna a reti unificate con tanto di tutorial no devi cantare due volte tanti auguri le mani si lavano con le mani ma no ma dai ma non l'avrei mai detto io avevo già la mucchina attaccata allo zaino ma c'è anche io le borracce ma certo infatti eravamo tra quelli che la mucchina ce l'avevano che era diventata introvabile certo e cos'altro che cos'altro ti ha sconvolto e hai detto però questa cosa io da mucche la facevo lo racconti appunto in tanti dei tuoi monologhi ma diciamo in generale anche questa la pratica del distanziamento sociale no questo fatto di non toccarsi troppo ma io sempre praticato sempre poi per carità nel momento in cui si infrangono determinati quando si comincia a entrare in intimità con una persona allora si diventa proprio bello toccacione e cioè no no però quando sei certo sul livello di salute è delle deve aver visto l'emocromo completo allora ci si spoglia se no prima grandi distanziamenti tu in doccia hai raggi ultravioletti immagino quando esattamente io ho lo sterilizzatore per il cellulare appena entra a casa la prima cosa che faccio è sterilizzare il cellulare senti Saverio ci sembra che sei diventato anche un po' sportivo quindi ti estendiamo l'invito alla DJ Ten che è questa corsa che facciamo con Radio DJ dove vengono 10.000 15.000 persone e tutti poi alla fine della corsa sudati ti danno il bacetto verrò alla corsa ma non smetterò di correre quando vedrò le persone avvicinarsi per darmi il bacetto lo fuggirai correrò ancora più veloce senti parliamo del tour ma accidenti fai 100 dati ma la cosa bella è che è un po' ritorno alle origini cioè torni nei club basta teatri basta di nuovo guardi i teatri ho sempre cercato di evitarli per carità amo il teatro ma secondo me non è giusto per la stand up comedy che è il modo di comicità che faccio io insomma perché la stand up comedy ha bisogno di quel rapporto quasi promiscuo tra il comico e il pubblico ci deve essere appunto intimità vicinanza lì sì ma tecnicamente serve anche vedere le persone a te che fai vedere fino a un certo punto però guardarsi negli occhi sì guardarsi negli occhi sì quello secondo me è fondamentale poter guardare agli spettatori negli occhi capire cosa sta andando sì e poi che ci possa essere il brivido in sala che ci sia un Will Smith che a un certo punto si alza e ti molla lo schiaffo cosa che in un teatro all'italiana non è possibile che qualche troppo alto non devi fare il giro dietro le quinte che è successo la contestazione sì sì la contestazione sì no lo schiaffo anche perché bisogna essere un miniaturista per prendere non c'è capito di mettere lì con la lente quelli che fanno modellismo capito se no non mi prendi troppo piccolo troppo piccolo allora 26 febbraio Pisa Lumiere il 28 a Torino off topic primo marzo Brescia Latteria Mollone insomma ci sono tante date cercate live club tour di Savera e Raimondo e lo trovate praticamente in tutte le città però sbrigatevi perché chiaramente il club ha per contro il fatto che non sono tantissimi posti esattamente io per dire sto già in piedi se tu parti in palco non c'è seduta quanto dura lo spettacolo mediamente un'ora e dieci io cerco di stare nei 60 minuti che è la durata fisiologica poi a volte le risate dilatano e quindi si arriva ai 70 minuti però percentuale di scritto improvvisato 80-20 ma fai anche 70-30 70-30 fai anche un 70-30 e se a un certo punto faccio mi socera mi socera mi socera cioè ti chiedo se io ti pungolo su questa cosa tu mi rispondi che insisti ma mi socera tu socera è nel traffico esatto perché a Roma è una gag interna è un inside joke però a noi piace molto il comico che non fa la battuta cioè quello che dice dichiara una roba e te la fai tu e te la fai tu vedi il signore già ride e tra poco parliamo invece del Saverio Raimondo cantante diciamo così più o meno intanto arrivano con la pesce e di partire Tanti sconfinati che si arrendono alla sera qualche finestra accesa Radio DJ la trovi anche in podcast Splash Splash 8 e 47 Radio DJ chiamate Roma 3131 è con noi Saverio Raimondo per presentarci il tour ma anche e soprattutto il primo comedy album in Italia che cos'è un comedy album un comedy album è uno spettacolo di stand up comedy ma da ascoltare quindi registrato è un disco dove però non si sente cantare il comico nel mio caso fortunatamente questa è la mia voce mentre parlo figurati mentre canto ma senti il comico fare le sue battute e il pubblico ridere perché Saverio Raimondo live a studio 33 è proprio un pezzo di spettacolo però su disco allora io mi ricordo che ai tempi Pippo Franco fece una cosa simile con l'album Cesso vi giuro l'album Cesso di Pippo Franco c'è un pezzo dello spettacolo ma solo un pezzo qua tu invece hai messo sulle tracce di un 33 tutta una serie di ma ci sono le tracce come nei dischi ci sono le tracce come nei dischi assolutamente quindi è diviso in brano tu puoi ascoltare anche soltanto un brano oppure tutto l'album ed è su Spotify chiaramente ed è su Spotify su tutte le piattaforme digitali e attenzione durante i miei live nel mio tour sarà possibile acquistare solo lì il vinile e quindi se ridete poi vi risentite esatto vorrei far notare che il riferimento culturale di Furio era il disco di Pippo Franco il mio durante il disco era Paolo Rossi ma non ha fatto il 33 non ha fatto il 33 calzonacce abbiamo parlato appunto di sentirvi ridere perché occhio quello che fate negli spettacoli che è finita nel disco e adesso facciamo invece una prova audio del vostro senso dell'umorismo cioè sentiamo come suonano le vostre risate ok ok c'è una cretina in prima fila molto bene molto bene cominciamo bene la serata parte benissimo ecco qui è tutto improvvisato per esempio posso dire la verità tu sei una cretina ma gli altri sono degli stronzi perché quando stasera funziona così quando quando sentite una persona basta una persona che ride voi non lasciatela sola andategli dietro un po' di solidarietà sociale fra di voi questa sera giustamente ci dicono i 33 giri anche di Mrs. Maisel esattamente ma sì perché la tradizione è il comedy album per noi in Italia è una novità ma in realtà negli Stati Uniti già i primi stand up comedian Lenny Bruce Woody Allen facevano il disco dei loro spettacoli tutti gli stand up comedian fanno dei comedy album tanto che il miglior comedy album è una categoria dei Grammy Award agli ultimi Grammy Devin Ciappell ha vinto il miglior comedy album quindi rischi il prossimo anno di essere premiato ci stai dicendo questo in Italia molto probabilmente io sarò miglior comedy album 2023 anche perché al momento sono l'unico è un grosso vantaggio è un grosso vantaggio Saverio se tu avessi avuto un euro per ogni volta che ti dicono questo è il nuovo Lenny Bruce saresti stramiliardario diciamo che quando ti ho la domanda chi è il nuovo Lenny Bruce non c'è non c'è non c'è io sono il vecchio Saverio Raimondo ti ricordi quello di dieci anni fa quello c'è rimasto quello la cosa molto bella che mi ha stupito è che trovo molto azzeccata è che tu dici che durante gli spettacoli in realtà suoni perché suoni il tuo corpo suoni con la voce io suono questa voce queste corde vocali che sentite questa unica corda vocale che ho la suono per un'ora io sono lo strumento di me stesso io soffio dentro alle battute mi considero un po' un trombettista ma appunto la voce è quella ecco senti ma che vuoi fare da grande Saverio è deciso ma guarda io penso che continuerò a fare quello che fai faccio sì sì e continua mettiamo un disco dopodiché Saverio in 30 secondi ci racconta quello che sta facendo adesso la vera esperienza traumatica il trasloco qui ha dedicato un pezzo dell'album ah sì è sentito la trasloca esatto e allora no spoiler vi comprate l'album concludiamo con Giucat 51 Radio DJ I programmi di Radio DJ sono anche in podcast On Demand dove vuoi quando vuoi non proprio una golden hour una golden half hour quella questa mezz'ora con Saverio Raimondo che domenica è a febbraio e domenica è a Pisa però è febbraio domenica è l'ultima domenica di febbraio è una domenica a febbraio è bello il 26 a Lumière mi raccomando andate numerosi e portate tante parti tanti pezzi di Saker Vegana mi raccomando mi manda il trio e faccio un suggerimento per te caro Gabriele c'è un suggerimento per te dice nella prossima edizione Don't Forget the Lyrics essendo un 33 potrebbero anche portare un po' devi sapere tutte le parole è vero è complicato ma non male Saverio dici solamente in 20 secondi come sta andando il trasloco male male i trasloci vanno sempre male è terribile è un'esperienza devastante ti senti sporco per mesi è tutto è un caos ho tanta voglia di andare in albergo ho tanta voglia di andare in albergo grazie mille a Saverio Raimondo grazie a tutti voi ciao a tutti a domani ciao ciao calaveromanti uno di uno su Radio DJ